L'allenamento in zona 2 potrebbe essere una delle cose migliori che puoi fare per la tua salute a lungo termine. Molto probabilmente hai già sentito parlare di zona 2 e di allenamento in zona 2 per quanto riguarda il mondo della performance sportiva, delle prestazioni fisiche. Ma nel video di oggi ti mostrerò tutti i benefici che in realtà l'allenamento in zona 2 può avere anche sulla tua salute generale sia fisica che mentale, andando a migliorare di fatto quella che è la nostra qualità di vita. Quindi se vuoi saperne di più su questo tipo di allenamento o vuoi saperne di più sul motivo per cui dovresti inserirlo all'interno delle tue routine quotidiane, sia che tu sia un atleta o che tu non lo sia o che sia semplicemente una persona che vuole stare più in forma, vuole sentirsi meglio, rimani sintonizzato o sintonizzata perché in questo video ti dirò tutto quello che devi sapere sulla zona 2. Prima di partire faccio una veloce presentazione, io sono Roberto Bombaggi, fisioterapista fondatore di Fisiomagazine.com e in questo canale divulgo argomenti che spaziano dalla scienza all'ottimizzazione della nostra salute sino ad arrivare alla performance e al biohacking. Bene, cos'è l'allenamento in zona 2? L'allenamento in zona 2 è un tipo di allenamento che viene definito come un'intensità cardiovascolare di basso grado, quindi quel tipo di attività a bassa intensità che però siamo in grado di portare avanti per lunghi periodi di tempo. Infatti rispetto a molte altre tipologie di esercizio come ad esempio l'esercizio ad alta intensità, quindi ad esempio l'HIT, l'allenamento in zona 2 è un allenamento decisamente meno importante ma dall'altra parte è anche un pochino noioso, infatti per godere dei benefici di questa tipologia di allenamento, come vedremo poi nel seguito del video, dobbiamo portarlo avanti anche per 30, 45 o anche 60 minuti. Non preoccuparti però perché più avanti nel video ti darò anche dei protocolli più specifici per capire di quanto tempo devi rimanere in zona 2 e di quanto allenamento hai bisogno in questa fascia. D'altronde però se questo tipo di allenamento è diventato noioso in realtà è solo per colpa nostra, come sempre. Infatti devi sapere che quando parliamo di esercizio fisico, di movimento, in realtà ci riferiamo a tutto quello che possiamo fare per andare a sopperire alla mancanza di attività che oggigiorno non facciamo più e che l'uomo invece ha sempre svolto durante la sua evoluzione. Infatti per zona 2 intendiamo tutte quelle attività a bassa intensità che vanno a simulare uno stato in cui l'uomo cacciatore e raccoglitore del passato passava gran parte delle sue giornate e questo tipo di allenamento è principalmente efficace nell'andare ad allenare il nostro apparato cardiorespiratorio, quindi cuore e polmoni, anche se poi i benefici che vedremo fra un attimo sono sicuramente maggiori di questa banalizzazione e ci riferiamo quindi ad attività come ad esempio la camminata veloce, una corsetta, biking, andare a cacciare, raccogliere i pericampi, nuotare, fare hiking, fare danza, insomma qualsiasi tipo di attività a bassa intensità che però possiamo portare avanti nel tempo con relativa facilità. Bene, ma cosa significa più nello specifico allenarsi in zona 2? Devi sapere che in fisiologia degli esercizi vengono descritte principalmente 5 fasce, possiamo definirle anche degli intervalli, che fanno riferimento e quindi sono dettate dalla nostra frequenza cardiaca e quindi banalmente abbiamo dalla zona 1 alla zona 5, quindi zona 1, 2, 3, 4 e 5, che fanno riferimento proprio ad una determinata percentuale della nostra frequenza cardiaca massima. Ad esempio per zona 1 intendiamo tutte quelle attività che ci impegnano diciamo sino al 50-60% della nostra frequenza cardiaca, per zona 5 ad esempio, ovvero l'alta intensità, intendiamo quegli sforzi che ci impegnano sino al 90% e oltre della nostra frequenza cardiaca massima, per zona 2 intendiamo proprio quell'intervallo di frequenza cardiaca dove siamo tra il 60 e il 70% della nostra frequenza cardiaca massima. Ora, cosa succede nello specifico in queste diverse zone di intensità, zone di percentuale della frequenza cardiaca all'interno del nostro corpo? Beh, sicuramente una delle differenze principali è che il nostro corpo utilizza fonti diverse di carburante in base alla zona in cui si trova. Ad esempio nelle frequenze cardiache più basse, quindi come nella zona 1 e nella zona 2, il nostro corpo utilizza principalmente come substrato energetico, quindi come carburante, per produrre energia i grassi piuttosto che il glucosio. Infatti bruciare grassi, più nello specifico ossidare i grassi per produrre poi energia, è molto più efficiente dal punto di vista energetico piuttosto che utilizzare il glucosio. E questo insieme alle dimensioni delle nostre riserve di grasso rispetto a quelle di glucosio, che sono sicuramente invece più limitate, è una parte del motivo per cui possiamo eseguire questi allenamenti in zona 1 e in zona 2, sicuramente per periodi, per intervalli di tempo molto più elevati rispetto alle zone ad alta intensità. Mentre invece quando saliamo lungo le zone, quindi andiamo in zona 3, zona 4 o zona 5, chiaramente la frequenza cardiaca aumenta e anche la richiesta ventilatoria, quindi la nostra respirazione aumenta. Ed è proprio a questo punto che il nostro corpo inizia a switchare ad un substrato energetico molto più veloce, più efficiente per questo tipo di attività che è appunto quello del glucosio e quindi degli zuccheri, che generalmente troviamo immagazzinati a livello dei nostri muscoli e del nostro fegato. Bene, ma quali sono i benefici di fare allenamento in zona 2? Quindi a quella zona che abbiamo detto corrispondere tra il 60 e il 70% della nostra frequenza cardiaca massima. Non preoccuparti perché fra un attimo vedremo anche nel dettaglio come andrà a calcolare questa zona. Sicuramente uno dei principali benefici è quello dell'aumento sia nel numero che nell'efficienza dei nostri mitocondri. Infatti in realtà come con altri tipi di esercizio, quando ci alleniamo in zona 2, la quantità e la funzionalità dei nostri mitocondri tendono ad aumentare a dismisura. In altre parole aumentiamo sia il numero di mitocondri presenti all'interno delle nostre cellule, secondo un processo che viene chiamato appunto biogenesi mitocondriale, ma aumenta anche l'efficienza di ogni singolo mitocondrio presente nelle nostre cellule. Ora devi sapere che i nostri mitocondri sono un po' la nostra centrale elettrica, la nostra centrale energetica. Infatti sono degli organelli presenti all'interno delle nostre cellule che hanno il compito di trasformare le molecole che costituiscono gli alimenti che noi ingeriamo in energia, per l'appunto sotto forma di ATP, ovvero adenosina trifosfato. E quindi avere più mitocondri significa essere in grado di utilizzare maggiormente glucosio e grassi per andare a produrre maggiori quantità di ATP e quindi di energia. Come abbiamo detto in realtà la biogenesi mitocondriale, quindi la formazione di nuovi mitocondri, avviene con qualsiasi tipo di attività fisica. Tuttavia però è stato visto dagli studi come questa biogenesi, quindi la creazione di nuovi mitocondri, aumenti in base alla quantità di esercizio che facciamo. E visto il fatto che come abbiamo detto l'allenamento in zona 2 è un allenamento a bassa intensità e che quindi siamo in grado di protrarlo maggiormente nel tempo, quindi farne banalmente di più, saremo quindi in grado di andare a costruire più mitocondri per questo semplice motivo. D'altra parte invece come abbiamo detto una maggiore efficienza mitocondriale significa principalmente aumentare la capacità dei nostri mitocondri di fare nello specifico due cose. Da una parte renderli più efficienti nello smaltire quelle sostanze di scarto che si formano in seguito alle reazioni di ossidazione, come appunto l'accumulo di radicali liberi che sono poi responsabili dello stress ossidativo del nostro corpo, attraverso un processo che prende il nome di mitofagia. E in secondo luogo significa che i nostri mitocondri diventeranno sempre più capaci ad utilizzare come fonte energetica i grassi piuttosto che il glucosio. Cioè diventeranno sempre più bravi a produrre energia a partire dai grassi piuttosto che dal glucosio e quindi dagli zuccheri. E qui ci ricolleghiamo direttamente al secondo beneficio ovvero quello della flessibilità metabolica. Infatti per flessibilità metabolica intendiamo proprio la capacità del nostro corpo di switchare da un substrato energetico come quello degli zuccheri, quindi del glucosio, ad un altro substrato energetico come ad esempio quello dei grassi. E l'allenamento in zona 2 sembra proprio particolarmente efficace nel produrre energia a partire dai grassi piuttosto che dal glucosio. Infatti quando ci alleniamo in zona 2 e quindi questi allenamenti a bassa intensità utilizziamo principalmente le fibre di tipo 1, ovvero quelle fibre lente che hanno un metabolismo principalmente a grassi. Cioè sono quelle fibre che possono sopportare sforzi di lunga durata e per funzionare utilizzano proprio i grassi come fonte di energia. E la cosa affascinante di questo è che allenare le fibre di tipo 1, quindi facendo zona 2, migliora le nostre performance anche nel fare altri tipi di attività come ad esempio per l'appunto l'alta intensità. Infatti si è visto che chi ha una maggiore capacità di utilizzare i grassi come fonte di energia ritarda l'accumulo dilatato nelle fibre di tipo 2, ovvero le fibre veloci. E l'accumulo dilatato sappiamo essere proprio il fattore che fa ridurre o addirittura cessare le nostre performance. In altre parole quando ad esempio ci alleniamo ad alta intensità, man mano che appunto l'intensità aumenta, per produrre sempre più energia, quindi per sopprire a questa richiesta da parte della nostra performance, i nostri mitocondri producono sempre più energia, quindi sempre più ATP, rilasciando nell'ambiente enormi quantità di ioni idrogeno, che tendono per l'appunto ad acidificare l'ambiente, quindi a renderlo più acido rispetto al pH che normalmente dovrebbero avere. Ed è proprio a questo punto che interviene il lattato, che ha proprio lo scopo di rimuovere questi ioni idrogeno, che andavano ad acidificare l'ambiente, per farlo ritornare ad un ambiente neutro. Quindi in realtà non è il lattato, ovvero l'acido lattico, quello che comunemente conosciamo così, il responsabile dell'affaticamento muscolare, ma è proprio in realtà l'accumulo di ioni idrogeno. L'acido lattico, quindi il lattato, in realtà è un meccanismo di ripulizia, di difesa contro questo meccanismo, che va a riportare il nostro corpo in delle condizioni ottimale per continuare la performance. Ecco, e quando noi alleniamo la zona 2, diventiamo proprio più bravi nel ritardare l'accumulo di lattato nelle fibre di tipo 2. Quelle che ad esempio usiamo per fare gli sprint, o dei movimenti ad alta intensità. Proprio perché diventiamo più bravi ad utilizzare i grassi piuttosto che il glucosio. E infatti è proprio l'utilizzo del glucosio come substrato energetico a promuovere l'accumulo di ioni idrogeno. Generalmente infatti quando superiamo circa il 65% della VO2 max, quindi un altro parametro di riferimento nel mondo della performance, che non stiamo qui ad approfondire, c'è un punto definito per l'appunto crossover, dove passiamo dall'utilizzo di grassi come substrato energetico all'utilizzo di glucosio. Mentre più alleniamo la zona 2, più diventiamo bravi a spostare questo punto di crossover sempre più in là, tanto che gli atleti di elite e di endurance possono arrivare anche all'80-90% della propria VO2 max, utilizzando i grassi come fonte di energia piuttosto che il glucosio. In termini pratici cosa significa tutto questo? Significa che allenando la zona 2 diventiamo sempre più bravi a fare esercizi via via sempre più intensi, mantenendo come substrato energetico i grassi, laddove qualsiasi altra persona utilizzerebbe invece il glucosio. E questo è un vantaggio competitivo enorme, perché le riserve di grasso come sappiamo sono praticamente infinite all'interno del nostro corpo, si stima addirittura sino a 40.000 kilocalorie, mentre quelle di glucosio sono invece limitate a circa 2.000 calorie localizzate tra fegato e muscoli, quindi dipende tanto anche chiaramente da quanta massa muscolare un soggetto ha. Terzo beneficio, l'allenamento in zona 2 migliora l'efficienza cardiovascolare. Infatti devi sapere che anche il nostro cuore, quindi il nostro apparato cardiovascolare, è composto da muscolo e al pari degli altri muscoli anche questo può essere allenato. Bene, la zona 2 è proprio la tipologia di esercizio più efficace per andare ad allenare il nostro apparato cardiovascolare. E per capire meglio in che modo la zona 2 allena il nostro apparato cardiovascolare, in primis il nostro cuore, dobbiamo fare un passettino indietro e parlare di un parametro che viene definito il cardiac output, ovvero la gittata cardiaca. Infatti quando ci alleniamo dobbiamo fronteggiare una qualsiasi sfida, o un qualsiasi stressor all'interno della nostra vita quotidiana, la richiesta di ossigeno ai nostri tessuti aumenta, perché chiaramente hanno bisogno di performare meglio, quindi ci vuole una maggiore perfusione tessutale di ossigeno. E per rispondere a questa necessità, il nostro cuore chiaramente si adatta di conseguenza, andando a modificare il proprio cardiac output, ovvero la gittata cardiaca. E la gittata cardiaca rappresenta proprio il prodotto, quindi la moltiplicazione banalmente tra la nostra frequenza cardiaca, quindi quanti battiti avvengono all'interno di un minuto, è lo stroke volume, cioè il volume di sangue che viene emesso ad ogni pompata. Chiaramente quindi la gittata cardiaca viene misurata in litri al minuto, cioè quanti litri di sangue pompa il nostro cuore all'interno di un minuto. Bene, ora la cosa interessante è che quando noi ci alleniamo in zona 2, le camere del nostro cuore diventano sempre più grandi, e soprattutto anche lo spessore delle pareti, delle camere del nostro cuore, in particolare quella del ventricolo sinistro, che sono composti chiaramente di muscoli, aumentano in proporzione. Questo in termini pratici significa che il nostro cuore diventerà sempre più capace a contenere più sangue, e avrà più muscoli per espellere maggiore quantità di sangue ad ogni contrazione, quindi pompare maggiore quantità di sangue ad ogni singolo battito del nostro cuore. Quindi chiaramente diventa sempre più bravo ed efficiente nell'ossigenare i tessuti, proprio perché va a migliorare questo parametro che abbiamo detto chiamarsi la gittata cardiaca. E quindi in termini pratici questo significa che diventiamo sempre più bravi a svolgere attività via via più intense, mantenendo stabile o addirittura riducendo la frequenza cardiaca, proprio perché abbiamo aumentato lo stroke volume, cioè quanto sangue il nostro cuore è capace di emettere ad ogni singola pompata. Quindi vuol dire che la nostra gittata cardiaca è rimasta uguale, questo perché abbiamo aumentato quanto sangue viene espulso ad ogni contrazione, e quindi possiamo permetterci di ridurre la nostra frequenza cardiaca, e di mantenerla quanto più stabile possibile anche ad attività via via sempre più intense. E tutto questo chiaramente si traduce in una frequenza cardiaca a riposo più bassa, e quando la nostra frequenza cardiaca a riposo è più bassa, sappiamo che questo è legato a tutta una serie di indici di miglior benessere generale. Questo significa che andremo a ridurre gli stati ansiosi, diventiamo più bravi nel gestire lo stress, aumentano i nostri livelli di HRV, diminuisce la nostra frequenza respiratoria, insomma tutta una serie di parametri che sappiamo essere correlati ad un miglior benessere generale. E chiaramente puoi avere un cuore maggiormente in salute, quindi un apparato cardiovascolare che funziona meglio, significa prevenire eventuali malattie cardiovascolari, che sappiamo essere una delle principali cause di morte nel mondo. Quarto beneficio non da poco migliora la sensibilità insulinica. La sensibilità insulinica descrive quanto è bravo il nostro corpo a rispondere proprio all'insulina. Infatti quando mangiamo principalmente carboidrati, i livelli di glucosio nel sangue tendono ad aumentare. Di conseguenza il nostro pancreas andrà a produrre insulina, che ha proprio il compito di trasportare il glucosio dal nostro torrente ematico, quindi dal nostro sangue, all'interno delle nostre cellule, proprio per renderlo pronto ed utilizzabile per i nostri mitocondri e quindi produrre energia. Il problema dei giorni nostri però è che ormai le nostre alimentazioni sono praticamente a base di glucosio, quindi abbiamo sempre questi picchi glicemici, e quindi i nostri livelli medi di glucosio nel sangue, quindi la nostra glicemia a digiuno ad esempio, è decisamente più elevata di quello che dovrebbe essere. E questo significa che il pancreas dovrà costantemente produrre sempre più insulina per provare a sopperire a questa condizione. E tutto questo, quando viene protratto chiaramente nel cronico, porta le nostre cellule a diventare sempre meno sensibili all'insulina stessa. E quindi diventano sempre meno capaci di assorbire glucosio, quindi di ricevere glucosio all'interno delle cellule, e questo significa che i nostri livelli di glucosio nel sangue, proprio perché non può passare dal sangue alle cellule, rimangono sempre elevati. Questo è il fenomeno che viene per l'appunto chiamato sotto il nome di resistenza insulinica, cioè quando le nostre cellule non rispondono più come dovrebbero all'insulina. E chiaramente puoi immaginare come questo sia un problema enorme, infatti questo è uno dei principali motivi per cui la percentuale di persone con diagnosi di diabete di tipo 2 è sempre maggiore. Ma non solo, perché sappiamo che ad oggi in Italia, oltre ad esserci circa 4-5 milioni di persone con il diabete di tipo 2 diagnosticato, abbiamo un'altrettanta fetta di popolazione, sempre di circa 5-6 milioni di persone, che sono prediabetiche, cioè che hanno una forma di resistenza insulinica proprio dovuta a questo fenomeno che abbiamo descritto, e che se non viene tenuta sotto controllo, e non viene migliorata attraverso lo svolgimento di un corretto stile di vita, può portare chiaramente ad andare incontro al diabete di tipo 2. Ora, quello che succede quando facciamo esercizi in zona 2, è che le nostre cellule aumentano il numero di un particolare recettore che viene chiamato il GLUT4, che viene definito per l'appunto come un trasportatore di glucosio. Cioè in altre parole, la membrana delle nostre cellule viene in qualche modo riempita di questi recettori del GLUT4, che sono quindi in grado di far entrare maggiormente il glucosio all'interno delle nostre cellule, e questo significa che a parità di insulina prodotta, le nostre cellule diventano sempre più abili a smaltire il glucosio dal flusso sanguigno all'interno delle nostre cellule. Quindi chiaramente in questo modo stiamo andando a migliorare la nostra sensibilità insulinica. Ora in realtà anche qui tutte le forme di esercizio si è visto come stimolano il miglioramento della sensibilità insulinica, soprattutto a brevi termine, ma come dicevamo prima la zona 2 rispetto degli allenamenti ad alta intensità è un tipo di attività a basso impatto che quindi può essere fatta per maggiori periodi di tempo, dando ai nostri muscoli quindi più tempo per essere in grado di utilizzare il glucosio. Questo tra l'altro è uno dei motivi per cui viene dato spesso come consiglio quello di fare una camminata anche a bassa intensità dopo un pasto, quindi in zona 1 o in zona 2, perché questo può essere un metodo efficace per abbassare i picchi glicemici, andando a migliorare quindi la nostra sensibilità insulinica e il nostro benessere generale. Quinto ed ultimo beneficio poi è quello di una migliore salute generale. Quindi chiaramente fare allenamento in zona 2 va a migliorare tutta una serie di parametri come la pressione arteriosa, la probabilità di andare incontro ad un cancro quindi un tumore di qualsiasi tipo, migliora l'umore quindi tutto ciò che ha a che fare con la nostra sfera emotiva, insomma va a migliorare diciamo a 360 gradi la nostra salute generale. Ora dopo che abbiamo visto i benefici scendiamo un attimino più nel pratico e vediamo chi dovrebbe fare zona 2 e soprattutto come sapere se sono in zona 2 e come andare a calcolarla. Ora la risposta alla domanda chi dovrebbe fare zona 2 in realtà è molto semplice, perché in primis abbiamo detto che è un tipo di allenamento che va a migliorare a 360 gradi la nostra salute generale e quindi capisci che chiunque potenzialmente dovrebbe fare zona 2 per andare a migliorare la propria qualità di vita. In secondo luogo in realtà chiunque faccia allenamenti che richiedono uno sforzo, quindi un'attività superiore ad un minuto dovrebbe allenare la propria zona 2, proprio perché come abbiamo detto questo tipo di attività ha un transfer diretto anche sulle altre zone di intensità, principalmente sulla zona 5, quindi sull'alta intensità, dove andiamo ad utilizzare le fibre veloci, quindi quelle di tipo 2. Quindi se non stai facendo zona 2 in questo momento rimani ancora un attimo sino alla fine del video perché ti darò adesso tutti gli strumenti pratici per calcolarla e quindi per metterla in pratica all'interno delle tue routine. Ora vediamo come sapere allora se sono in zona 2 e soprattutto come facciamo a calcolare qual è la nostra zona 2 personale. Ora chiaramente abbiamo vari modi per sapere se siamo in zona 2 e per andare a calcolarla. Come abbiamo detto la zona 2 si riferisce a quel tipo, a quella fascia di frequenza cardiaca dove siamo tra il 60 e il 70% della nostra frequenza cardiaca massima. Quindi ne consegue che se vogliamo sapere nello specifico qual è la nostra zona 2 dobbiamo prima conoscere la nostra frequenza cardiaca massima. In realtà però non ci serve sapere solo la nostra frequenza cardiaca massima perché se vogliamo calcolare più specificatamente la nostra zona 2 è molto interessante andare a conoscere anche la nostra frequenza cardiaca minima. Infatti per calcolare la nostra frequenza cardiaca massima generalmente le persone si affidano alla formula 220 meno l'età che è una formula molto generica che in alcuni casi ci azzecca ma che in realtà è estremamente poco precisa perché non tiene in conto chiaramente del livello di forma del soggetto ad esempio. Quindi possiamo essere chiaramente davanti ad un soggetto di 30 anni sedentario oppure ad un soggetto di 30 anni ma triatleta quindi chiaramente avrà una frequenza cardiaca di partenza estremamente diversa. E quindi c'è in realtà una formula molto più precisa per calcolare la nostra frequenza cardiaca massima che fra un attimo vediamo anche se in realtà la cosa ancora più affidabile sarebbe quella di fare un test da sforzo sul campo. Atteniamo le cose semplici per il momento quindi vediamo questa formuletta che può essere sicuramente più precisa del 220 meno l'età. E questa formula molto semplicemente è 208 meno, aperta parentesi, 0,7 per la nostra età. Quindi esempio pratico se abbiamo per esempio 30 anni dovremmo fare 208 meno, aperta parentesi, 0,7 per 30 e questo chiaramente ci darà la nostra frequenza cardiaca massima. A questo punto una volta che conosciamo la nostra frequenza cardiaca massima quindi il nostro punto massimo al quale il nostro cuore può spingersi banalmente potremmo calcolare tra il 60 e il 70% di questo numero della nostra frequenza cardiaca e utilizzare questo range, quindi questa fascia, come il nostro intervallo per andare a fare zona 2. Quindi potremo dotarci ad esempio di un qualsiasi wearables quelli che vi consiglio sono sicuramente la fascia polar il braccialetto della hoop oppure un qualsiasi semplice smartwatch come ad esempio l'Apple Watch, il Fitbit e quindi attraverso questi dispositivi possiamo sapere mentre ci allineiamo se stiamo mantenendo quella fascia di intensità. E vi assicuro che vi accorgerete che quando andate a fare zona 2 monitorando nello specifico se mantenete quel tipo di intensità se siete persone che magari erano abituate a correre vi accorgerete come questa sia un'intensità decisamente molto più bassa rispetto a quella che spesso facciamo infatti spesso quando andiamo a correre in bici tendiamo a fare un'attività che spesso si porta in zona 3 che sappiamo essere una zona non così efficace come la zona 2 infatti si dice spesso che la zona 3 e la zona 4 siano delle zone poco efficienti in termini di ritorno sull'investimento infatti le zone a cui dovremo prediligere all'interno della nostra vita sono sicuramente la zona 2 e la zona 5 quindi ora abbiamo calcolato la nostra zona 2 a partire dalla nostra frequenza cardiaca massima ma se volessimo calcolarla ancora più nello specifico c'è una formula un pochino più precisa per conoscerla per la quale però ci serve come abbiamo detto prima anche la nostra frequenza cardiaca minima e quindi questo significa che dovremo monitorare all'interno della nostra giornata qual è la nostra frequenza media a riposo quindi ad esempio appena ci svegliamo facciamola almeno per 7 giorni ogni mattina ci misuriamo la nostra frequenza cardiaca a riposo sempre attraverso uno dei dispositivi magari che vi ho menzionato e una volta che abbiamo anche la frequenza cardiaca minima attraverso questa formula che vi lascio qui in sovraimpressione o comunque sotto in descrizione possiamo andare a misurare ancora più nello specifico la nostra zona 2 questo è un metodo già un pochettino più avanzato questo chiaramente se volessimo entrare ancora più nello specifico ancora più nel dettaglio chiaramente la zona 2 il top sarebbe andarla a calcolare attraverso la VO2max quel parametro di cui vi ho accennato prima ma questo a meno che non abbiamo un laboratorio clinico in casa o un team che ci assiste è abbastanza complicato ma arriviamo invece al metodo più semplice per andare a calcolare la nostra zona 2 che è semplicemente il talk test ovvero il test della conversazione infatti la zona 2 è quel tipo di fascia in cui siamo ad un'intensità tale per cui noi riusciamo a mantenere una conversazione quindi quando stiamo facendo la nostra zona 2 ad esempio se siamo sulla bici stiamo facendo allenamento in zona 2 ecco deve essere un tipo di intensità per cui riusciamo a tenere una conversazione con qualcuno e soprattutto laddove riusciamo a respirare ancora dal naso quindi è quella zona per cui se io facessi ancora quel qualcosina in più non riesco più a tenere una conversazione perché la richiesta di ossigeno di iperventilazione sarebbe decisamente più alta e quindi non riesco più a mantenere una conversazione e non riesco più a ossigenarmi respirando solo dal naso ma invece ho bisogno di respirare dalla bocca chiaramente per avere un ingresso di maggiore quantità di ossigeno quindi il talk test, il test della conversazione è sicuramente il metodo più semplice che sin da oggi puoi mettere in pratica senza bisogno di alcuna strumentazione per andare a monitorare se stai facendo allenamento in zona 2 bene vediamo ora nel pratico come iniziare quindi vediamo soprattutto quale attività ti consiglio di fare e soprattutto quanta attività in zona 2 dovremo fare all'interno delle nostre routine ora tecnicamente potremmo fare zona 2 con qualsiasi tipo di attività come abbiamo detto prima potremmo fare una camminata veloce una corsa, andare in bici, hiking quindi andare a scalare, passeggiate in montagna nuotare, canoa o qualsiasi tipo di attività come la danza, il tennis insomma attività a bassa intensità quindi a basso impatto che siamo in grado di fare per un alto periodo di tempo tuttavia però questo in termini pratici soprattutto per trarre i maggiori benefici dalla zona 2 non è il massimo certo poi se siamo dei completi principianti che non hanno mai fatto allenamento in zona 2 davvero possiamo prendere qualsiasi tipo di attività perché siamo sicuri che questo è sempre meglio di nulla però chiaramente se siamo delle persone che vogliono andare ad ottimizzare i propri allenamenti o comunque ottenere il massimo con il minor tempo investito possiamo mettere in atto degli accorgimenti molto più pratici e specifici il primo è sicuramente quello di scegliere un'attività molto semplice dal punto di vista dell'esecuzione e quindi della tecnica ad esempio nel mondo del crossfit che è l'attività che io pratico abbiamo diversi ergometri cioè diversi macchinari con cui teoricamente potremmo fare allenamenti aerobici quindi in zona 2 ad esempio il vogatore quindi il rower la bike lo ski erg ma il problema di alcuni di questi ergometri quindi di questi macchinari è che richiedono anche una minima dose di tecnica per essere eseguiti quindi ad esempio una certa coordinazione una certa capacità nell'eseguire sempre lo stesso movimento allo stesso ritmo e questo chiaramente nel lungo periodo perché come vedremo fra un attimo la zona 2 dobbiamo mantenerla per alti per lunghi periodi di tempo chiaramente può portare ad una riduzione del gesto quindi a rendere il gesto poco efficiente meno efficiente aumentando chiaramente quindi anche la probabilità di infortuni o comunque di non rendere l'allenamento efficace quindi l'ideale sarebbe quello di scegliere un'attività molto semplice dal punto di vista esecutivo e quella che ti consiglio sicuramente io è quella di avere una bike quindi di andare in bici quindi un gesto super semplice che però coinvolge i grandi gruppi muscolari come quelli degli arti inferiori e che è un ottimo esercizio per fare zona 2 anche qui però il secondo consiglio se vogliamo ottimizzare la nostra zona 2 soprattutto se non siamo degli amatori è fare questo tipo di attività quindi biking indoor quindi al chiuso in un ambiente protetto quindi in luoghi sicuri oppure chiaramente avendo una pista questo perché fare bici in città chiaramente può andare ad interrompere i momenti in cui stiamo in zona 2 perché magari c'è traffico magari devo rispettare i semaferi ci possono essere degli intoppi e quindi questo chiaramente può andare a compromettere l'efficacia del nostro allenamento quindi l'ideale sarebbe avere una bike una cyclette in palestra in garage al chiuso oppure utilizzare la bici per utilizzarla in luoghi sicuri dove sappiamo che non ci saranno delle interruzioni e qui veniamo quindi al quanta farne quanta attività di questo tipo quindi in zona 2 dovremmo fare quello che ci consiglia la letteratura scientifica le linee guida a riguardo è sicuramente quello di fare almeno due sessioni settimanali da almeno 45-60 minuti a sessione diciamo però ancora più nello specifico dovremmo fare l'allenamento in zona 2 almeno al di sopra dei 20 minuti ma attenzione non 20 minuti di allenamento totale ma 20 minuti in zona 2 infatti come ti accorgerai se vai a monitorare la tua frequenza cardiaca che ci metterai un po' di tempo ad arrivare in zona 2 e quindi fare un allenamento totale in zona 2 di 30 minuti magari non ti consente neanche di arrivare in zona 2 e di mantenerla per un buon periodo di tempo quindi chiaramente aumentare la tempistica quindi arrivare a 45-60 minuti ci garantisce almeno sicuramente quella mezz'ora in cui noi saremmo in zona 2 e altro punto molto importante è che questo minutaggio quindi il tempo in cui rimaniamo in zona 2 deve essere continuativo quindi non ci devono essere delle interruzioni quindi ad esempio non vale fare 15 minuti interrompere, fare una pausa e poi fare altri 15 minuti ma questi 30 minuti meglio ancora se 45 o 60 devono essere continuativi quindi deve essere quella mezz'ora quei 45 minuti in cui noi siamo continuamente dall'inizio alla fine all'interno della zona 2 senza mai scendere né al di sotto quindi in zona 2 né andare al di sopra in zona 3 perché altrimenti non beneficiamo di tutti i benefici che ci porta la zona 2 e che abbiamo già citato questo perché il lavoro in zona 2 deve essere un lavoro abbastanza lungo da permettere al tuo corpo di dire ok sto lavorando a questa intensità e quindi ho bisogno di apportare determinate modifiche per andare a godere di tutti i benefici che abbiamo detto bene questo era più o meno il 20-80 che devi sapere che ti serve sapere sulla zona 2 chiaramente se hai dubbi continuiamo a sentirci qui giù nei commenti oppure scrivimi in privato e se poi volessi approfondire la tua situazione attuale quindi magari vuoi inserire la zona 2 all'interno delle tue routine o vuoi un programma più specifico che comprende il miglioramento del tuo stile di vita a 360 gradi ti consiglio di dare un occhio al mio percorso alta performance ti lascio sempre il link qui giù in descrizione un percorso di 12 settimane dove andiamo passo dopo passo ad ottimizzare il tuo stile di vita inserendo tutta una serie di piccoli hack che possono andare a migliorare le tue prestazioni fisiche e cognitive non solo se sei uno sportivo ma anzi e soprattutto se sei una persona che vuole semplicemente performare meglio all'interno della propria vita quindi nel proprio lavoro nelle proprie passioni nei propri hobby o semplicemente vuole stare il meglio possibile quindi dai un occhio qui sotto il link in descrizione il mio programma alta performance e come sempre ti ringrazio se sei arrivato o arrivata alla fine di questo video e se ti è sembrato interessante se ti ha aiutato ti ha dato qualche spunto utile magari lascia un like iscriviti al canale condividilo con chi pensi possa averne bisogno e noi come sempre ci sentiamo in un prossimo episodio per scoprire la scienza che ti aiuta a vivere meglio più in forma e più a lungo ciao